Riprendiamo la nostra mattinata insieme e ricominciamo quel viaggio che abbiamo iniziato stamattina. Perché stamattina abbiamo iniziato a parlare di un'apparizione che risale proprio alla giornata di oggi, al 28 novembre, in Ruanda. La Madonna appare e da lì abbiamo raccontato proprio le varie apparizioni nel mondo, Giacomo, della Madonna, che ci fanno sentire proprio la sua vicinanza. E allo stesso modo i fedeli fanno sentire in qualche modo la loro vicinanza attraverso gli ex vuoto. Ma che cosa sono gli ex vuoto? Che cosa ci raccontano? Ne parliamo quest'oggi con Padre Gianmatteo Roggio che è tornato a trovarci nel nostro studio. Ciao Padre Gianmatteo. Ma insieme a Padre Gianmatteo Roggio abbiamo un'altra ospite che è in collegamento con noi, Madre Rebecca Nazzaro. Madre Rebecca, buongiorno. Ci rivediamo, Madre Rebecca. Buongiorno, eccoci, siamo qui. Madre Rebecca, ci puoi dire tu esattamente dove ti trovi? Sì, ci troviamo qui nella località della Tre Fontane, il luogo dove la Vergine Maria ha posato i suoi piedi. Lei il 12 aprile 1947 e ha richiamato una persona, Bruno Gornacchiola, che era un anticlericale, che non credeva nella Madonna, che stava scrivendo un discorso per parlare contro la Madonna. Ma lei si presenta prima ai suoi tre bambini e poi a lui, dicendo tu mi perseguiti, ora basta, rientra nel novile santo. Ecco, un richiamo della madre che richiama suo figlio, vieni, ritorna a casa, ritorna nel cuore della madre, perché io ti sono stata sempre vicino. E quindi questo è un po' il senso poi dell'accoglienza che questo santuario ha come significato, che è quello di sentire nel cuore la presenza di Maria, che continua ad accogliere i suoi figli con grandi prodigi, con grandi miracoli, soprattutto con grande conversioni, con la terra che lei ha santificato con la sua presenza. Madre Rebecca, noi ti ringraziamo, ci hai dato tantissimi spunti che pian piano approfondiremo, noi ti chiediamo di restare in collegamento con noi e viviamo insieme questa mattinata. A tra poco! E se fra poco ritorniamo da Madre Rebecca, padre Gianmatteo, abbiamo iniziato parlando, accennando agli ex voto. Noi siamo abituati a averli quando visitiamo le chiese, i santuari, da quelli grandi a quelli piccoli, ma che storia hanno gli ex voto? Cioè esistono con la cristianità? Esistono da prima? Cosa si nasconde nella loro storia? Gli ex voto, potremmo dire, accompagnano la storia dell'essere umano, quindi non sono una caratteristica esclusivamente cristiana. In tutte le testimonianze religiose si trovano degli oggetti con i quali i credenti vogliono trasmettere agli altri la loro esperienza del divino, vogliono trasmettere agli altri quello che hanno sentito, vissuto. Il cristianesimo ha trovato questi segni e li ha fatti suoi, cioè non ha ritenuto di doverli distruggere. Il cristianesimo invece ha ritenuto di dover far suo anche questo tipo di linguaggio, anche questo tipo di comunicazione, perché quello che noi chiamiamo ex voto è in effetti una testimonianza della presenza del divino e nel caso cristiano una testimonianza della presenza di Dio, dei suoi santi, nella vita delle persone. È un po' anche un modo forse che le persone trovano per condividere una grazia ricevuta, anche per ringraziare, ma anche per farlo sapere agli altri. Sì, da questo punto di vista gli ex voto ci ricordano che una religione privata, cioè una religione chiusa nell'intimo della coscienza, che li rimane, che non si manifesta agli altri, o è un'illusione o è qualcosa che non sembra corrispondere poi dopo alla realtà, perché quando qualcuno incontra Dio, quando qualcuno incontra la potenza sanante di Dio, perché Dio risana l'anima, il corpo, la vita, questo non può essere tenuto dentro di sé. Questa è una cosa che se Dio ha fatto a me la può fare anche agli altri. E allora gli altri hanno il diritto, è un diritto, hanno il diritto di sapere che cosa Dio fa in mezzo all'umanità. E l'ex voto risponde in un certo senso a questo diritto. Tu mi chiedi che cosa Dio fa? Ecco, io ti mostro quello che Dio fa. La narrazione sacra per secoli e ancora adesso è andata avanti per immagini, vediamo quadri che riguardano Cristo, la Madonna, i Santi eccetera. Non risulta poi così strano in effetti allora, se è vero questo, che anche la risposta che avviene, cioè il ringraziamento per una grazia ricevuta, avvenga molto spesso per immagini, immagini dipinte, immagini anche storicamente dipinte, che rappresentano l'atto della salvezza o qualche elemento che riguarda la salvezza. Certo, sono immagini che dicono a chi le guarda che il Vangelo non è una cosa del passato. Noi leggiamo nel Vangelo che Gesù ha incontrato tantissime persone e Gesù non si è rifiutato di incontrare i malati, non si è rifiutato di incontrare quelli che per un motivo o per l'altro venivano messi ai margini, alle periferie della società. Ebbene, gli ex voto sono come un Vangelo dei poveri, un Vangelo in immagini fatto dai poveri che dicono noi abbiamo incontrato il Signore e davvero allora quella beatitudine, beati i poveri perché vostro è il Regno dei Cieli, non è una fantasia ma è una realtà. Ci sono dei santuari che sono proprio ricchissimi di ex voto in Italia. Tantissimi, ma potremmo dire che il santuario e l'ex voto sono due facce di una stessa medaglia. Un santuario non esiste senza gli ex voto perché l'ex voto sta lì a dire che l'origine di quel santuario non è solamente un'origine umana. Si può creare un santuario per tanti motivi, io posso creare, e questo magari nel passato poteva costituire una motivazione forte, io posso creare un santuario per controllare la fede della gente, io posso creare un santuario per avere un potere sopra la gente. E questi sono motivi umani, ma l'ex voto sta lì a dire che quel santuario non è nato da motivazioni umane, non è nato come strumento di controllo, come strumento di potere, no, quel santuario è nato dalla grazia di Dio e la grazia di Dio esercita la sua onnipotenza ed esercita la sua provvidenza sanando e guarendo l'essere umano. C'è un santuario che non solo è ricco di ex voto, ma è esso stesso un ex voto, che è il santuario di Pompei, i cui mattoni sono fatti di grazia e di carità. Legato al santuario, alla Vergine di Pompei, c'è una storia che vi vogliamo presentare, è una storia che è stata raccolta da Simone Nestori e che ci porta una salvezza e un ex voto corrispondente da parte di Emma e di suo marito. Guardiamo insieme. Accadde che il 30 agosto del 2020 noi eravamo andati all'Idolaura, a Pestum, noi ci eravamo allontanati superando i cavelloni di una trentina di metri e stavamo camminando serenamente a Emma pochi giorni prima era stato regalato da sua cugina di Milano un braccialetto della Madonna di Pompei. Nel mentre parlavamo proprio di Marco, di Franco, di altre cose, ha perso questo braccialetto. Mi vennero immediatamente di dire, senti Emma, quasi sicuramente, la Madonna di Pompei deve salvare qualsiasi naufrago. Allora si calmò, però nel momento in cui ci eravamo allontanati di pochi metri per trovare proprio il braccialetto, siamo stati completamente travolti da una molto forte risacca che ci ha portato a largo. Lei, con un impeto preso proprio dal panico, mise una mano su un piccolo materassino gonfiabile, si sdlanciò verso il cielo e, per nostra fortuna, fu scorta da uno dei bagnanti che stava raccogliendo le telline. Finalmente partì il barchino di salvataggio. Quando finalmente si accostò ad Emma, Emma esternò, Ma Mario dove stai? Io non lo vedo, salvate mio marito. Lui fece un cenno alla spiaggia perché c'era un amico suo. Questo ragazzo presa una cordina praticamente a terra sulla spiaggia, lunghissima. Fece ancorare a qualche bagnante che stava a riva e si buttò a nuoto. Io mi ritrovai con questo ragazzo che prendeva fiato, che teneva la cordina nella mano destra e la mia caviglia nella mano sinistra. Altri bagnanti si misero pure loro a tirare ed erano 14. Un applauso di tutta la spiaggia e quant'altro e praticamente io ringraziavo a tutti quanti. Io credo molto nella nostra Madonnina Celeste. Con noi è stata molto molto presente e come disse una suora quando sentì questo racconto, disse signora, dottore, probabilmente avete ancora tanto tanto da fare per gli altri. Il concetto che mi ha indotto a chiamare un amico carissimo a disegnare, a dipingere questa edicola è che le parole mi sono venute da dentro. Mi venne da dire, Emma non ti preoccupa, quasi sicuramente la Madonna deve aiutare qualche naufrago in questo momento. E nel giro di pochi minuti i naufraghi eravamo noi. E come diceva mia madre, i miracoli Mario li fa a nostro Signore, ma a divina provvidenza sta a mano a Maronna. E noi ci affidiamo a lei veramente anche per tutti quelli che hanno necessità del suo aiuto. Padre Gianmatteo, la storia che abbiamo appena visto che ci arriva da Pompei raccolta da Simone Nestori ci racconta una cosa. Prima tu ci dicevi che l'ex voto nasce da un'esigenza e l'esigenza è quella di raccontare, di essere testimoni in prima persona per non fare in modo che sia un qualche cosa di privato. La stessa salvezza è un qualche cosa che non è privato. E' quello che è accaduto a Emma e Mario. Come la malattia che investe una persona, investe una famiglia. Anche la salvezza investe la famiglia e la collettività. E c'è un'onda positiva che porta con sé, che tra cima e non può rimanere solo per se stessa. Ma certo, ma oltretutto qui in questo racconto l'onda positiva, come tu l'hai chiamata, è questa onda fatta di persone che si mettono a collaborare per il bene degli altri. Non cominciano a dire che succede, prendo il telefono, mi metto a riprendere la scena perché così poi dopo invio su WhatsApp o su qualche altra chat queste belle immagini ai miei amici, alle mie amiche. No, c'è qualcuno in pericolo, facciamo gruppo, impariamo a diventare comunità. Ed è quello che è successo. Per cui non soltanto il bagnino che accorre, la seconda persona che interviene, la gente che si mette lì ad aiutare. In fondo l'ex voto questo vuole dire. Quando c'è l'intervento di Dio, quando si sente che c'è un intervento di Dio, questo intervento di Dio non è mai un intervento esclusivamente per un singolo. È un intervento che forma comunità. È un intervento che crea legami. Come ha detto il signor Mario, sono andato a salutare tutti. Prima erano degli sconosciuti, improvvisamente gli altri non sono più degli sconosciuti. Padre Gianmatteo, io vedo già pronte, vorrei chiamare Madre Rebecca. Madre Rebecca, ci senti? Madre Rebecca, eccoti, ti vediamo avvolta da tantissimi ex voto. Questa mattina sei un po' la nostra guida in un santuario, un santuario amatissimo a Roma e non solo. Ci puoi raccontare esattamente dove ti trovi in questo momento? Sì, in questo momento mi trovo nell'ambulacro che circonda la grotta dove è apparsa la Madonna, chiamata anche la Via dell'Angelo. Sono stati posti qui, fin dalle origini, i miracoli che sono avvenuti con la terra della grotta. Come a Lourdes la Vergine Maria opera miracoli con l'acqua, qui la Vergine Maria opera miracoli con la terra. Con questa terra di peccato, così chiama la Vergine Maria la grotta dove lei si presenta, con questa terra di peccato opererò grandi prodigi, miracoli e conversioni. Quindi fin dall'inizio, dal 1947 la Madonna appare il 12 aprile, già a maggio del 1947 la terra comincia a produrre, diciamo così, quello che la Vergine aveva chiesto. Perché c'è stato subito un concorso di passaparola che la Madonna era apparsa qui a Roma. Il primo caso miracoloso è proprio quello di un soldato napoletano che si trovava nell'ospedale militare del Cielio, malato di tumore al cervello, ormai non c'era più niente da fare, ma la suora della corsia dell'ospedale che era già venuta qui a prendere un po' di terra, perché subito si è sparsa la voce che la Madonna operava miracoli con questa terra, mette la terra sul capo del soldato che improvvisamente si sente bene, recupera la vista, si alza e dice di essere guarito. Questo soldato poi sarà lui insieme ai tanti devoti che porterà qui nella grande processione il 5 ottobre 1947 la statua che ancora oggi qua si venera nella grotta delle Tre Fontane. Le immagini ci restituiscono una... Una grande ricchezza, Madre Rebecca, che riguarda dei cuori, che riguarda le acque santiere, che riguarda anche delle corone del rosario. Voi, missionari della Divina Rivelazione, siete testimoni anche in prima persona di ciò che accade e delle grazie che sovrabbondano. Sì, soprattutto delle conversioni. Ecco, noi siamo molto testimoni delle conversioni, della presenza di Maria. La Madonna, tra l'altro, lo dice anche qui, gli assetati, gli smarriti, troveranno il vero senso della vita e crediamo che la conversione del cuore sia poi la conversione più grande perché, come è stato detto anche prima, il miracolo fisico diventa testimonianza non solo per la persona che lo riceve, ma anche per coloro che sono a conoscenza di questi prodigi straordinari. La conversione del cuore diventa ancora più grande come testimonianza perché c'è un cambiamento di vita, una conversione di vita. E noi possiamo testimoniare qui nella presenza di santuario quante persone che si sentono attratte di venire qua su sulla collina e poi si trovano abbracciati dall'amore materno di Maria Santissima. Grazie, Madre Rebecca. Noi ci ritroviamo tra poco. E se sono tante le persone che si affidano all'intercessione di Maria, tante sono anche quelle che si affidano all'intercessione dei santi e tanti si affidano proprio a San Pio da Pietrelcina. Di questo ne parliamo dopo la pubblicità. Siamo tornati e con questa macchina stiamo facendo un viaggio, un viaggio nei santuari in Italia dove ci sono dei segni, dei segni che sono gli ex voto. Gli ex voto sono proprio dei segni tangibili, come dicevamo con padre, Gian Matteo Roggio, che le persone lasciano proprio per testimoniare e ringraziare la Madonna per aver ricevuto una grazia e condividerla con le altre persone. Lo stiamo facendo noi qui in studio e lo stiamo facendo anche con madre, Rebecca Nazaro, che è in collegamento dal santuario della Madonna della Rivelazione alle Tre Fontane e tra un po' torneremo proprio lì per raccontare altre storie, altre storie di grazia ricevuta. Però dicevamo che le persone si affidano alla Madonna ma spesso chiedono anche l'intercessione dei santi e uno dei santi ai quali si affidano maggiormente è San Pio da Pietrelcina. E allora è proprio lì che vogliamo andare con questo servizio. Guardiamolo insieme e poi torniamo in studio. Ci troviamo a Pietrelcina nel santuario diocesano di San Pio da Pietrelcina, la parrocchia di Santa Maria degli Angeli. Qui da noi non c'è un luogo prettamente predisposto per gli ex voto come negli altri santuari perché la nostra chiesa è molto piccola però spontaneamente i pellegrini vengono qui anche di nascosto nelle ore pomeridiane potremmo dire quando non sono visti da nessuno e lasciano accanto ad una statua di Padre Pio che abbiamo nell'ufficio parrocchiale c'è questa statua di Padre Pio seduto con la croce in mano e lì lasciano i loro ex voto, i loro ricordi il loro affidamento a Padre Pio. È bello che in alcune circostanze questa statua diventa ripiena di questi oggetti ripiena di questi fiocchi, delle nascite di questi oggetti appartenuti ai bambini ai giovani, agli adulti tante fotografie anche vengono lasciate all'inizio sembra un po' così imbarazzante vedere una statua conciata in questo modo però poi a me piace fermarmi e guardarle dire quanta vita c'è intorno a questa immagine di Padre Pio quante speranze vengono affidate quante lacrime di nascosto insieme a questo ex voto, a questo fiocco vengono lasciate ai piedi di Padre Pio perché lui le potesse presentare al Signore e cosa rappresenta un ex voto? Rappresenta una promessa fatta è la promessa di quel pellegrino di quella persona, di quella famiglia fatta in un contesto particolare della sua vita, in una situazione delicata potremmo dire di malattia di sofferenza, di speranza che se quel momento passasse così in modo più leggero, ecco il pellegrino poi sarebbe ritornato ecco, ritornerebbe nel santuario portando proprio questo oggetto come gratitudine però al di là di questo aspetto è bello sottolineare come dietro ogni ex voto c'è una storia quindi ecco l'ex voto un gesto di speranza un gesto di preghiera un gesto molto umano però che questa umanità la si vuole affidare al Signore attraverso la Vergine Maria e in questo caso a San Pio da Pietrelcina Padre Gianmatteo fra Daniele Moffa ci ha portato nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Pietrelcina e mi piaceva proprio sottolineare lui dice non ci pensiamo ma dietro a ogni ex voto c'è tanta vita tante lacrime tante storie tante storie segnate dall'aspetto oscuro della vita che la vita non è solamente un cammino di luce la vita è questa grande lotta potremmo dire così tra la luce e le tenebre ma nello stesso tempo l'ex voto collega questa nostra vita che è fatta di tenebre e di luce con la vita che c'è dopo gli ex voto da questo punto di vista sono una porta aperta sul che cosa c'è dopo la morte che è la domanda che poi alla fine assilla in un certo senso ogni essere umano che pensa che cosa c'è dopo la morte e allora ecco che gli ex voto ci dicono che dopo la morte c'è una famiglia dopo la morte c'è una comunità familiare è la comunità di Dio dove la Vergine i santi le sante non si dimenticano di noi quindi l'ex voto è insieme questa realtà che guarda alla vita nostra che è fatta di tante realtà di limite di disgrazia di sofferenza e nello stesso tempo l'ex voto guarda anche un'altra realtà che è la realtà che tutti ci attende il far parte di questa famiglia di Dio dove la legge per così dire di questa famiglia è la legge dell'amore fraterno ed è la legge del benessere integrale ed è bellissimo padre Giammatteo quello che dici perché in questo modo ci fa capire che la salvezza degli altri veramente fa bene anche al nostro cuore di guarigione del cuore ci parlava poco fa madre Rebecca Nazzaro con cui ci vogliamo ricollegare sempre dalle tre fontane qua a Roma e in particolar modo ti trovi sempre nella via dell'angelo c'è una testimonianza c'è un ex voto di cui ci volevi parlare vero? Sì sì c'è una testimonianza tra le tante ecco ne abbiamo scelta una un po' particolare dopo mortale incidente sulla strada esanime ricomposto in obitorio prodigiosamente si ria fra lo stupore dei presenti perché? perché la moglie di questo beato fortunato Nazareno ecco porta avvisata dall'incidente il marito porta lì nell'obitorio la terra delle tre fontane la mette sul suo capo sul suo corpo improvvisamente si riprende quindi questo è stato un prodigio incredibile come diceva giustamente il padre ecco l'ex voto poi rimanda a una realtà che ci attende dove la Vergine Maria con tutti i santi ci sta preparando la strada anche attraverso questi prodigi e questi miracoli che avvengono questo come quello di Carlo Mancuso che nel giugno del 1947 cade dalla tromba delle scale dell'ascensore e si frattura tutte le ossa in ospedale tra dolori lancinanti una suora porta a lui spalma la terra delle tre fontane improvvisamente si rialza cammina sta benissimo ma il prodigio qual è? che dalle radiografie risultava ancora che le ossa erano rotte e lui ha testimoniato questo miracolo incredibile per cui lui camminava tranquillamente si muoveva ma le sue ossa erano rotte fino alla fine della sua vita perché è morto così con le ossa fratturate ma con la vita piena che ha vissuto fino alla sua vecchiaia ma dovrebbe che sono un po' per dire alcuni esempi si stavo dicendo che è bellissimo vedere in questa via degli angeli i tanti ex voto presenti ci fanno fare un viaggio anche nel corso dei secoli perché alcuni sono davvero antichissimi io ti volevo chiedere però uno degli ultimi che hai ricevuto mi immagino saranno tante le testimonianze di persone che tu raccogli ogni giorno lì si le testimonianze come dicevo poc'anzi sono quelle della improvvisa presenza di Maria persone che si sentono si sentivano soli sfiduciati abbandonati si sono sentiti attratti di venire su o perché portati da fedeli perché il cristiano è chiamato ad essere missionario nel piccolo o nel grande portati su da amici o da parenti oppure che sono venuti per curiosità su questa collina di Tre Fontane non dimentichiamo che la Madonna è apparsa esattamente nel luogo dove San Paolo ha subito la decapitazione del suo martirio ecco perché si chiama le Tre Fontane quindi comunque è un luogo qui a Roma molto famoso magari ci si appresta alla località del martirio e poi si viene su per curiosità e si rimane folgorati da questa presenza di Maria che non è una presenza visiva ma è la presenza del cuore perché quello di cui soffriamo noi oggi l'umanità di oggi è proprio questa questa aridità del cuore questa perdita di senso come diceva prima il padre questa perdita di senso della vita ecco la nostra vita ha un grande senso siamo stati chiamati all'esistenza perché per amore dobbiamo ritornare al Dio che è amore quindi non siamo stati chiamati all'esistenza per stare bene il benessere spirituale è quello di stare bene nell'amore perché se non amiamo siamo tristi ecco allora questo è il senso più profondo ecco perché qui la Madonna con il suo grande amore abbraccia tutti coloro che vengono in questo luogo e che sono stati richiamati all'amore suo per andare a piacere che tu abbia fatto riferimento a quella lastra dove raccontando la storia del protagonista della salvezza c'è scritto con grande stupore dei presenti lo stupore è esattamente lo stesso stupore che prova a chiunque arriva lì dinanzi a quella grotta sentendo quell'accoglimento sentendo quella presenza noi ti ringraziamo madre Rebecca per averci portato con mano in quel luogo di pace che è le tre fontane grazie infinite buona giornata grazie madre Rebecca grazie 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 padre Gianmatteo madre Rebecca ci ha portato in uno dei santuari più amati qui a Roma e non solo ma tu che ci racconti ci aiuti ci fai conoscere tanti luoghi posso chiederti c'è un santuario al quale tu sei più legato beh c'è il santuario della salette in Francia in quanto missionario di nostra signora della salette quello è un luogo particolare che ho imparato a conoscere e che è entrato nella mia vita ma al di là di questo tutti i santuari sono importanti dal più grande al più piccolo noi possiamo avere nel nostro cuore una predilezione possiamo avere nel nostro cuore una preferenza che può essere anche la preferenza delle nostre famiglie le tradizioni che noi troviamo in casa e che si trasmettono poi dopo alle nuove generazioni tutti i santuari hanno importanza perché tutti i santuari alla fine lanciano questo messaggio che ricordava anche madre Rebecca non siamo soli e questo lo si avverte mi vengono in mente grazie alle parole che ci diceva Don Ivan Licini o qualche tempo fa parlato di Pompei naturalmente diceva come chi sta qua sente la responsabilità che in quel breve tempo che c'hai tu che appartiene al santuario con un fedele che si trova lì che transita magari viene da lontano e hai solo quel poco quello spiraglio di tempo molto ridotto con cui hai a che fare con lui però ecco proprio in quello spiraglio di tempo devi fargli sentire quella presenza devi fargli avvertire che non è solo un'esperienza naturalmente diversa da quella che può essere diocesiana parrocchiale ma in quello forse troviamo anche quello spessore con l'importanza dei santuari e in questo forse capiamo anche l'ottica del post pandemia della pandemia per cui tante persone in più sono ritornate ai santuari sì tante persone sono ritornate nei santuari per domandarsi il senso della vita perché quello che la pandemia ha messo in dubbio è la risposta al senso della vita che ci eravamo dati ci eravamo dati la risposta che la vita ce la possiamo godere che la vita è qualche cosa che deve essere vissuta nell'abbondanza deve essere vissuta ognuno nella sua individualità la pandemia ha messo in dubbio tutto questo e allora tornare nei santuari dopo la pandemia significa soprattutto tornare alla ricerca del senso della vita e di un senso della vita che sia integrale cioè di un senso della vita che non riguarda solamente l'anima magari opposta al corpo no un senso della vita che abbracci la tua parte spirituale in armonia con il tuo corpo in modo tale che questo ti renda costruttore di armonia anche con gli altri e allora padre Giammatteo abbiamo fatto un viaggio insieme questa mattina vogliamo andare adesso Giacomo a Lucca tu sei mai stato a Lucca? no cioè sì ci sono stato ma non sono mai stato dove ci porta il nostro servizio e allora andiamoci subito andiamoci nella cattedrale di Lucca per vedere gli ex voto legati al volto santo guardiamolo insieme siamo nella cappella di Santa Pollinare nella cattedrale di Lucca alle mie spalle vediamo gli ex voto del 1896 sono ex voto frutto di un pellegrinaggio di tutte le diocesi toscane le quali vennero appunto ad omaggiare il volto santo di Lucca perché? perché nel 1884 quindi qualche anno prima del pellegrinaggio per una epidemia di colera fu vietato dalle autorità civili di fare celebrazioni messe e in particolare come del resto anche quest'anno fu vietato già allora di fare la luminara con il corteo e la processione molto sentita dal popolo lucchese ma anche dalle varie altre realtà e diocesi toscane che tradizionalmente partecipano finita l'epidemia tutte le diocesi toscane decisero di venire a Lucca ad omaggiare il volto santo portando un oggetto un ex voto appunto per ricordare questo particolare momento cioè il superamento di un'emergenza che è quella che fu quella dell'epidemia di colera e nel superamento di questa emergenza ci fu ovviamente il ringraziamento anche al volto santo e allora grazie grazie padre Gianmatteo per questo viaggio che abbiamo fatto insieme questa mattina grazie a voi grazie alla prossima rimani rimani seduto noi ci salutiamo ci diamo appuntamento a domani 29 novembre faremo un viaggio indietro nel tempo di 800 anni quando a Roma Papa Onorio III diceva sì alla regola di frate Francesco domani in occasione appunto di questo importante anniversario il nostro viaggio partirà dai passi del poverello di Assisi e per il momento il nostro viaggio termina qui ma quello di TV2000 continua e alla conduzione c'è la nostra Monica Di Loreto a te Monica grazie